Prima si fingevano clienti per effettuare dei sopralluoghi, poi tornavano di notte, ma in questo caso per ammettere a segno dei colpi. E' così finita in manette la banda delle slot. Si tratta di due cittadini, entrambi albanesi, un 37enne ed un 35enne, pregiudicati residenti nel comune di Arezzo. I furti, cinque in tutto, messi a segno in una ventina di giorni, risalgono allo scorso ottobre. Nelle loro mire erano finiti alcuni locali tra il centro storico, via Fiorentina, Tortaia, Saione e Capolona. I malviventi agivano sempre allo stesso modo, preparando i colpi nei minimi dettagli. Una volta individuato il bar, infatti, entravano fingendosi clienti, ordinavano da bere e poi si avvicinavano alle slot, selezionando quelle da rubare. Di notte entravano in azione, dopo aver forzato la porta d'ingresso dei locali, in una manciata di minuti, stradicavano le slot, le caricavano su furgoni rubati e si davano alla fuga. Le macchinette poi venivano abbandonate in luoghi isolati. I due adesso dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e ricettazione. Durante le perquisizioni domiciliari, i carabinieri hanno trovato anche circa 700 euro in monete riconducibili ai furti. Inoltre, uno dei due ladri aveva in casa anche alcuni grammi di cocaina, un bilancino e del materiale per il confezionamento della droga. Il terzo componente della banda, un altro cittadino albanese, è stato colpito dalla stessa misura cautelare, ma risulta già espatriato da alcuni mesi.